Il tempo di un altro disco è un libro che unisce due tracce al suo interno. La prima è il Record Store Tale, un reading realizzato in occasione del Record Store Day 2013 ed è un'autobiografia di ascolti che offre in qualche modo la traccia narrativa al libro. La seconda è una serie di riflessioni sul mercato discografico, sulla curiosità e la possibilità di entrare in contatto attraverso la rete con una quantità pressoché infinita di musicisti e brani e generi musicali che abbiamo oggi appunto grazie alle nuove tecnologie. Le due tracce si intersegano all'interno del libro in modo anche da far vedere come una abbia dei riflessi sull'altra, come la possibilità di entrare in contatto con nuove musica, con nuovi musicisti, influenzi e stimoli volta in volta alla curiosità.